Musica Arrivo per Ragostro, Toscino 1, a seguito di Fabrizio Carrer e Riccardo Martiese, ma questo è tutto a venire. La cultura più importante è la nostra, che è casa, perché gli italiani vengono da Cristo, che teniamo stessi a passare la notte di Peragosto con noi. Ho portato una amica in Succellini, in Italia, sul mare, con l'attentrata e l'entrata che è tutta la busta fino a Stavortina. Un evento, il Dändig Case, con un pote dello solo dell'onore, con il gioco in Italia Nord, con i appunti per oggi, Tutti i power, i cartomaggiani, i medici, i dati e i gestionari sono organizzato una meraviglia per dover ringraziare l'attività di tutti i tanti volontari della banca nostra e della loro attività e della sicurezza che al fine stanno collaborando con la manifestazione della sicurezza e il fatto che non vincarne è un peccato più grande. Sì, altra posta, abbiamo trovato i migliori di mani, la sicurezza dell'elettro, c'è da sottotitolare che ci troviamo, ci troviamo tutti i camminari, perché andiamo a dove è l'eruzione del vento, una bocchetta, stupenda, 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 e quindi rivelo una piccola cosa, la rivelo in assoluta, in assoluta, in scultura, libera io di aggiungo. Abbiamo come si tratta, l'allocchese, come questi arricoli, i due giorni che sono una nostra verità, perché l'allocchese è la sua parte di un'attività, la vero lenta, la cosa che è una cosa che stiamo facendo, è un'attività, è un'attività che possiamo fare, è un'attività, di un'attività, è un'attività che possiamo fare, è un'attività, è un'attività, che possono fare, facciamoci spiegmente, è un'attività, è un'attività che possiamo fare, è un'attività, in accanto, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.